su, rubate quello che volete grazie ecco, shh, non parlate shh, per carità ecco, cinque minuti cinque minuti di pazienza, faccio subito non vi muovete zitta zitta, ferma è bello, è bellissimo, ma in questo momento non mi posso soffermare ssh, zitta, non sceglare shh, è una cassa fotte non gredare shh, non gredare dove sono? dove le ha messe? è scraziato se le portò nella tomba magari è scraziato è scraziato è scraziato